Liberi.tv Riccardo Cristiano, domani 29 novembre all'ora 14 si terrà presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro all'interno dell'Aula Falcone e Borsellino un importante incontro dal titolo HIV e AIDS oltre lo stigma. Questo incontro è organizzato da Adriana Costa che è la rappresentante degli studenti della commissione paritetica. Insieme a lei ci saranno molti esponenti di rilievo tra i quali Alessia Bausone, Carlo Torti che è un noto infettivologo, addirittura Ruggero Freddi e molti altri che vi invito a scoprire domani. Io avrò l'occasione di moderare questo incontro, Liberi.tv seguirà ovviamente i lavori quindi poi avrete la possibilità di vederlo ma la cosa fondamentale è che parleremo di prevenzione e di preservativo. Non vi spiegheremo come usarlo però è importante che voi sappiate che ancora oggi l'utilizzo del preservativo rappresenta la migliore forma di prevenzione nella lotta contro tutte le malattie sessualmente trasmissibili. Venite numerosi è una frase un po' ambigua però è adeguata alla giornata che noi vivremo domani anche perché giorno 1 dicembre è la giornata internazionale contro le malattie sessualmente trasmissibili. Quindi 29 novembre domani ore 14 Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro Aula Falcone e Borsellino HIV e AIDS oltre lo stigma. Venite numerosi!